Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo piccolo vlog Sarà l'ultimo vlog per un po' Perché come sapete sono sparito per tipo due settimane dal canale Non ho registrato niente Semplicemente per il fatto che ho lavorato Gli ultimi due mesi ho lavorato praticamente sette giorni su sette 24 ore su 24, no scherzo Però facendo giornate da 10-12 ore al giorno E una volta tornato a casa volevo semplicemente dormire Perché non sono tanto le ore del giorno che ti uccidono Perché sì, 12 ore sono tante Però ce la fai dopo un po' Il problema reale è il fatto di non avere mai un break Mai un momento libero E quello a lungo andare ti sfianca Questo è il motivo per la quale in queste due settimane non sono riuscito a fare nulla Io tornavo a casa, dormivo, mi svegliavo, tornavo a lavorare Stavamo consegnando dei cantieri Quindi è giusto così Non sto dicendo che lavoro troppo O semplicemente il tipo di lavoro che faccio adesso Mi impone un certo ritmo in alcuni casi E finalmente si sta abbassando Quindi parliamo di quello che succederà al canale Perché questi 14 giorni più o meno di assenza Mi sono stati utili per pensare a quello che succederà A quello che è il canale e a quello che sta succedendo al canale Allora, io il canale l'ho aperto per essere un modo per esprimere me stesso Attraverso ciò che amo, ovvero i videogiochi Quello che ho notato negli ultimi mesi è che Forse anche nell'ultimo anno Sono stati i videogiochi a farlo da padrone Non ero tanto io il protagonista dei vari video Quanto il gioco in sé Quindi è una cosa che vorrei rettificare Per migliorarne la qualità Voglio semplicemente essere È stato un mio pensiero sulla qualità del commentary che facevo io Quindi questo Poi abbiamo Ho dato un'occhiata al canale Ci sono un bel po' di serie che non hanno mai visto una conclusione E io qua un foglietto Vabbè Sono un bel po' di serie che non hanno mai visto una conclusione E quelle serie lì spariranno dal canale Questo perché soprattutto per i nuovi che arrivano e passano e guardano il canale Magari gli interessa che ne so Borderlands Io Borderlands non l'ho mai finito Questo per una mia intrinseco modo di essere gamer Io spesso sono attratto da così tanti giochi No Quindi gioco tanto un videogioco Poi ne esce un nuovo salto su quello Anche se non ho finito quello prima Quindi È sempre un po' un problema Ci sono tantissime serie finite sul canale Questo è assolutamente vero E quelle rimarranno Tutti gli altri verranno messi non elencati Io oggi appena torno a casa Perché sono ancora al lavoro Quindi Vabbè è giovedì È giusto così Comunque Faremo questa cosa qua E quindi Le serie che non hanno visto una fine Tranne magari Terraria Perché comunque è una serie lunga Semplicemente è un gioco molto aperto Quindi si può finire più o meno quando si vuole Tranne quella di Dead Rising Con SP Jockey Semplicemente perché è finita Perché SP Jockey non registra più E soprattutto non gli andava più il gioco Quindi Non si può finire È tristissima la cosa Lo so Sono triste anch'io Perché mancava l'ultima cazzo di missione Però non si riesce a finire Però quelle rimarranno Però serie come per esempio Le due serie di Borderlands Alcune serie di Minecraft Che sono iniziate Hanno fatto tipo tre episodi E poi sono Terminate così a culo Quelli spariranno Insomma Ci sarà un po' di Pulizia generale del canale Semplicemente perché Quelle non rappresentano La qualità che io voglio darvi Io voglio darvi Dei let's play completi Per l'appunto Pensando al let's play Io sto in realtà Cercando di trovare un metodo Magari alternativo Per farli Che possa racchiudere Un let's play In meno video Magari facendo video Più lunghi Da due ore Magari anche Cazzo me ne frega Facciamo due ore di video Su un videogioco E postandone Due o tre a settimana Questo perché Con il lavoro Mi risulta difficile Registrarne di più È ovvio Sì Se registro due ore Di un videogioco Posso fare Cinque episodi Da venti minuti Venticinque minuti È vero Però Non funziona così E quindi Non lo so Vedremo un po' Cosa fare O rimarremo con i soliti Cosi di let's play Voi potete comunque Darmi dei suggerimenti Nei commenti Io vi aspetterò Aspetterò i vostri commenti Vorrei vedere un po' Come la pensate Ringrazio tutti Tutto lo zoccolo duro Che è rimasto con me Nonostante queste Due Queste due settimane Di assenza E comunque Quasi un mese Dove ho fatto tipo Quattro video in tutto Erano tutti vlog Per tutti quelli La quale interessa I miei spostamenti Purtroppo non andrò A Romics Perché non ho abbastanza Giorni liberi Per poterci andare Ma Andrò al Modena Play Per un giorno Andrò Sabato Andremo Io e se si Robin di Dice Games Italia Andremo a Modena Play Dove ci saranno anche Ragazzi degli Evil Company Saremo lì per una giornata Quindi se volete vedermi Siete di Modena I dintorni Venite Ci becchiamo Ci pegliamo un caffè Ci diamo due bacetti Due abbracci Tutto a posto E Niente Quindi queste sono un po' Le cose nuove sul canale Ho comprato Dark Souls 2 E il commesso Mi ha Non ha detto niente Quando io ho detto Voglio farmi del male Mi ha dato Dark Souls 2 Quello del GameStop Mi ha fatto anche A gratis La L'assicurazione sul CD Perché ha detto Così se lo rompi Te lo assicuriamo Però è gratis Quindi è stato fantastico E E quindi Non so se lo farò Onestamente Magari farò dei video Aggiornamento Dove Faccio vedere il mio personaggio E Saranno magari 4, 5, 6 video Però non sarà Un let's play Completo Sarà semplicemente Dei video aggiornamento Vi faccio vedere Come sono andato avanti Cos'è successo Etc, etc, etc E le varie cose fighe Che ho incontrato Quindi Vedremo 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 un po' Come andrà Sto anche giocando Molto a Diablo 3 Con la nuova espansione E mi piace un sacco Il nuovo sistema di lutte È fighissimo Infatti ho iniziato Un crociato da zero E poi Cos'altro Counter Strike Sto rigiocando un pochino A quello Vi manderò delle partite Sto giocando a Titanfall E Titanfall Mi piace un sacco Se avete giochi Che possono interessarmi Ditemelo sempre nei commenti Io ragazzi Stacco perché Devo tornare a lavorare Ormai sono Sette minuti Che manco dal lavoro E non si può Quindi Mio nome è come sempre Qui tuono 8 Ciao a tutti